Una panoramica su controllo di gestione. Il controllo di gestione permette di monitorare i processi aziendali, valutare l'efficienza e l'economicità delle azioni amministrative. Grazie all'intervento del professionista, l'azienda può analizzare obiettivi, prendere decisioni mirate e migliorare l'andamento economico. Il controllo si articola in progettazione degli obiettivi, rilevazione dei risultati e azioni correttive. Il piano finanziario aiuta a valutare entrate e uscite, gestendo il fabbisogno finanziario, i pagamenti, gli investimenti e finanziamenti. Il confronto tra budget e consuntivo rivela gli eventuali scostamenti da analizzare e l'analisi dei dati economici rivela le criticità quasi in tempo reale, così da riuscire ad aggiustare le posizioni economiche e contrattuali in tempo. Il controllo di gestione richiede una stretta interazione tra le diverse aree aziendali e può essere supportato da consulenti esperti. Se ti va di approfondire, visita il link in descrizione.